Dei, ba-dum, ba-dum, dei, la vita è bella sì, da-da-da... Semboli, nippa né, volandote mai, volandote mai, non muovono, da-dum, ba-dum, da-dum, da-da-dum... La vita è bella sì, semboli, nippa né? Ma è sì, eh? Playam, 방ayamo! Ah, bué... Santo cielo, non vedo niente. Shhh, ho fatto il mio cappotto e vieni dietro. No, 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 non da quella parte, Topson. Ti è rimasta la testa. Accidenti. Hai qualche idea di dove stiamo andando? Ma certo. Ora a sinistra. E una a destra, dottore. Qui. E il posto giusto? Ci siamo, Topson, il covo segreto di Rattigan. Più lurico di quanto immaginassi. E meglio che spingasse. Topson, la bottiglia. La domanda. E' incastrato. Oligio. In ogni modo. Tutto presi. Bravi, bravi. Una splendida interpretazione. Sebbene, sarò sincero, vi stavo già aspettando da un quarto d'ora. Hai avuto qualche problema con il piccolo chimico? Rattigan, nessuno tranne me può avere una migliore opinione di te. Ed io ritengo che tu sia uno spregevole e disgustoso sorcio di fogna. No. No. A proposito, Basil. Ha trionfato la mente superiore. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. poter scegliere fra i tanti il metodo migliore e più appropriato per il vostro decesso. Avevo tante di quelle idee ingegnose che non sapevo quale scegliere. Così, ho deciso di usarle tutte. È meraviglioso, non è vero? Ma ora lasciatemi spiegare come funziona. Immaginatevi prima un'allegra melodia che ho inciso apposta per voi. Mentre suona la canzone, la corda si tende. E quando termina la canzone, viene sganciata una sfera metallica che rotola giù per la sua dolce strada finché... Snap! Boom! Quong! Tung! E... Splash! E così finirà la corta insignificante carriera di Basil di Baker Street. Quanto sei spregevole! Eh, sì! È tutto pronto, bambinello? Certo, capo! Sì! Oh, che diavoleria! Deliziosamente crudele! Signor Flaversham, devo congratularmi con lei per la sua superba opera d'arte! Vede ciò che si può fare per una giusta causa? Ha, ha, ha! Lo conoscete tutti il piano! Certo, professore! Donna Buckingham Palace. Grande era il mio desiderio di essere testimone della vostra fine, ma voi avete avuto un quarto d'ora di ritardo e io ora ho un appuntamento importante a Buckingham Palace. Sì. Ah, mi raccomando, ricordatevi di sorridere alla macchina fotografica, eh? D'accordo? Dite cheese! Sei un diavolo! Mi dispiace, grassone, avresti dovuto sceglierti meglio, gli amici! No!